Carissimi amici ascoltatori di Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della trasmissione di Maria Nunquanzatis giunta alla ventesima puntata, la quarta di quelle dedicate al secondo tema che stiamo affrontando in questa sede che è quello della corredenzione e mediazione della Madonna unitamente al suo poter essere chiamata con il titolo di Avvocata dell'Umanità. Allora abbiamo visto nella volta scorsa il secondo step, quindi approfondendo la lettura di Lumen Gentium 61, abbiamo visto come Maria Santissima fosse la socia e collaboratrice del Redentore, abbiamo visto bene alcuni termini tecnici in cui Maria Santissima viene appunto chiamata in questo modo dalla Costituzione stessa, quindi già da una dottrina ufficiale e autorevole di Santa Madre Chiesa che ripeto pur senza citare espressamente il discorso del termine corredentrice, scusatemi, tuttavia è chiaramente incline a parlare di una cooperazione e collaborazione di Maria Santissima all'opera di Gesù e in particolare all'opera della Redenzione. Ora, oggi dobbiamo andare un po' più addentro ulteriormente per comprendere la natura della collaborazione che Maria Santissima ha avuto con l'opera della Redenzione, che è una cosa del tutto singolare, particolare, abbiamo già visto la volta scorsa, e tipica di Maria solo, quindi è una cosa che ha riguardato lei senza che... in maniera distinta, differente da come riguarda noi. L'opera della Redenzione di Gesù l'abbiamo visto, è stata l'opera del riscatto dell'umanità dalla schiavitù del demonio e la riconciliazione dell'uomo con Dio, quindi la riapertura dei canali della grazia, cioè il cielo che si era chiuso con Adamo a causa della colpa è stato riaperto dall'opera di Gesù. Una volta che il cielo è riaperto qual è, diciamo così, la cosa da fare? Bisogna fare in modo che questa grazia arrivi alle persone che desiderano averla, ed è per questo che esiste la Chiesa. La principale opera della Chiesa è l'opera della santificazione. Andate, ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho mandato, quindi in queste parole di Gesù c'è la sintesi della vita della Chiesa, c'è una sintesi anche del Catechismo, se voi aprite il Catechismo della Chiesa Cattolica cosa trovate? Trovate la prima parte che è appunto la fede, gli articoli del credo, predicate il Vangelo a tutte le genti, poi c'è una sezione dedicata ai sacramenti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perché è il modo con cui ciò che si predica diventa realtà in chi lo accoglie, e poi insegnatelo ad osservare tutto ciò che vi ho comandato, la vita del cristiano, i dieci comandamenti e le altre virtù. Questo è il Catechismo, questa è in sintesi la vita della Chiesa. Ora, noi sappiamo che in questa opera, grande opera della Chiesa, di portare quindi la grazia riottenuta con la redenzione di Cristo agli uomini, interviene non soltanto, come dire, perché come faccio a fare in modo che una persona lontana dall'amore di Dio ascolti la predicazione, perché la fede viene dall'annuncio, dice San Paolo, no? Però ci bisogna di qualcuno che ci abbia voglia ad ascoltarlo, d'accordo? Perché ha voglia a predicar se tu parli ai muri, d'accordo? Oppure, se anche trovando un ascoltatore, quell'ascoltatore ha il cuore chiuso, cioè non ti ascolta, non si converte, non fa su quelle parole. Allora, cominciamo prima a capire quello che la Madonna chiede di fare a tutti e quindi come noi tutti fedeli cooperiamo con l'azione della Chiesa, attenzione, poi torneremo a parlare di Maria Santissima per comprendere la differenza che c'è tra lei e noi, come noi cooperiamo con la Chiesa alla distribuzione della grazia di Dio. Adesso il problema è che quella grazia che Gesù ha acquistato per tutti coloro che lo vogliono e da parte di Gesù l'apertura è universale, eh? Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità, si legge una lettera di San Paolo a Timotio, quindi questo è in dubbio, questo qui. Da parte di Gesù non c'è nessuno escluso e la dannazione è sempre da... che è una... come dire che è una possibilità molto reale e certamente attuale per molte persone, perché Gesù non parla mai dell'inferno come di una realtà vuota, magari lo fosse, ma purtroppo non lo è. In ogni caso la dannazione è sempre da intendere come auto-esclusione dell'uomo dalla salvezza, cioè rifiuto ostinato, conclamato e irreversibile fino all'ultimo istante dell'opera di salvezza operata da Gesù e offerta alla persona attraverso i richiami interni della grazia e l'opera della Chiesa. Ora però, noi sappiamo che la Madonna, lo dicevo ieri durante il termine del pellegrinaggio, c'è una cosa che dovunque appare, se uno studia le apparizioni fermandosi anche solo a quelle riconosciute dalla Chiesa, che sono sempre quelle su cui dobbiamo più che ogni altra appoggiarci, perché sono certe, c'è una costante universale. Cosa chiede sempre la Madonna? Sempre. Pregate e fate sacrifici. A Fatima disse per che cosa? Per la conversione dei poveri peccatori, perché tanta gente va all'inferno, attenzione, perché non c'è chi prega e si sacrifichi per loro. Domanda. Ma scusa Maria Santissima, ma se Gesù ha già pregato tanto, ha sofferto tanto, è morto in croce, a che serve la mia povera preghiera? Deve che sono un povero peccatore o un digiuno che faccio io? Non basta quello che ha fatto Gesù. Questa è l'obiezione di molti. Io adesso sto chiaramente facendo l'obiezione da parte dell'avvocato del diavolo. Non basta? Perché chiede questa cosa? Torniamo ancora all'Apostolo Paolo, l'abbiamo già visto nelle volte precedenti. L'Apostolo Paolo, forse è meglio che apro così vi do la citazione precisa in modo che rimanga. Un attimo l'applicazione mi darei un riferimento. Dice, sono lito delle sofferenze che sto provando. E completo nella mia carne quello che manca alle sofferenze di Cristo, quello che manca alle sofferenze di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Che significa questa espressione di San Paolo? Colossesi 1,24. Cito proprio testualmente, ma prima non sono da memoria. Perciò sono lito delle sofferenze che sopporto per voi. E completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che era a Chiesa. Ehi, San Paolo è eretico. Cosa dice? Dice che manca qualcosa ai patimenti di Cristo. Orrore! Allora San Paolo sta dicendo che Gesù non ha fatto abbastanza. Ah, mamma mia! No! Bisogna sempre stare attenti ad avvicinarsi alla Sacra Scrittura sempre con un grano Salis. Ecco, quindi con attenzione perché, ecco, San Paolo certamente non è eretico. Allora, chi è il Cristo totale secondo San Paolo? Secondo la sua teologia? È il capo. Il capo è Gesù. Le membra siamo noi. Se io sono le membra, noi abbiamo un corpo fisico di Gesù che ha già sofferto perfettamente e con quello ci ha acquistato la nostra redenzione. Ma poi però c'è il corpo mistico di Gesù. È chiaro che le membra sono completamente subordinate dal capo perché se io mi taglio la testa, capito? Non mi posso metto a pregare in ginocchio, cioè a fare questo piccolo sacrificio, nel senso che non prego per niente, d'accordo? Però l'opera delle membra di Gesù interviene dove e come. Interviene non nella redenzione in senso stretto perché se io offro un digiuno non è che questo mio digiuno riapre i cieli e ottiene la grazia santificante. No. Quello che opera il mio digiuno è che la grazia che Gesù ha già acquistato integralmente con la sua opera della redenzione storicamente avvenuta duemila anni fa, oggi potrebbe arrivare a una persona che non conosce l'amore di Dio come se qualcuno fa qualcosa per farcela arrivare. Perché siccome quel cuore è chiuso c'è bisogno di una grazia attuale che lo faccia aprire in modo tale che possa ricevere la grazia santificante. Qui interveniamo noi, qui interviene la nostra preghiera, qui interviene il nostro sacrificio e qui interviene anche l'operazione che tuttora la Madonna fa perché la Madonna è corredentrice sia come noi in maniera del tutto subordinata sia solo lei nel modo che vedremo tra poco. D'accordo? Anche la Madonna attualmente prega, capite? E ottiene a noi le grazie. Anche i santi pregano, ottengano le grazie anche dal paradiso, anche le anime del purgatorio e qui entriamo anche noi. Allora una sofferenza, un sacrificio, dico signore ti offro questo digiuno per la conversione di mio marito. Il Signore lo accoglie, non sappiamo quando, ma questo sicuramente provocherà, questo non dobbiamo avere nessun dubbio, guai a chi dubita su queste cose, guai. Allora quest'operazione otterrà a quella persona un richiamo della grazia, cioè dentro il suo cuore il Signore lo muoverà all'ascolto, gli darà uno sprone, un richiamo fermo restando la sua libertà. Non sappiamo quando questo avverrà, perché non ce l'ha detto nessuno, diceva io ho fatto il digiuno per la conversione di mio marito e è diventato più diavolo di prima. Il nostro Signore non ha firmato un contratto dicendo appena ha fatto il digiuno, un secondo dopo gli faccio la grazia. No, può darsi che quella grazia gliela fa tra un mese, può darsi che gliela fa tra un anno, può darsi che quel digiuno, tu non lo sai, ottenga a tuo marito la grazia che in punto di morte si pente sinceramente dei peccati e chiede perdona a Dio. Tu magari non lo saprai manco mai, non lo sappiamo. Ecco, ma di questo non possiamo dubitare. Quindi in questo senso noi partecipiamo subordinatamente all'opera della redenzione di Gesù, non ripeto ancora nel senso che riconciliamo l'umanità con Dio, riapriamo le porte del cielo o acquistiamo per le persone la grazia santificante, ma nel senso che cooperiamo con tutta la Chiesa e nella Chiesa alla distribuzione, si chiama così tecnicamente della grazia, cioè a fare in modo che quella grazia che Gesù ha già pronta per tutti, arrivi ai singoli cuori nel corso del tempo e della storia. In questo senso certamente mettendoci in cooperazione con l'azione della Chiesa che a livello ufficiale ed istituzionale principalmente opera in questo senso attraverso la sua preghiera pubblica, che è la liturgia delle ore, attraverso la predicazione che è il modo con cui si annuncia la salvezza e attraverso l'amministrazione dei sacramenti che è il modo con cui la salvezza realizzata da Cristo si comunica alle persone. Spero di essere stato chiaro. Ora però noi abbiamo visto la settimana scorsa, e magari è bene che lo andiamo a riprendere, che la Madonna ha cooperato con Gesù non in un secondo momento, ma quando Gesù era ancora vivo. quando Gesù era ancora vivo. Quindi non si tratta semplicemente di pregare per tutti perché la grazia che Gesù ha acquistato arrivasse a tutti, ma qui c'è un'opera di collaborazione e cooperazione subordinata e dipendente ovviamente da quella di Cristo, ma che la Madonna ha esplicato nell'atto stesso del compimento della retenzione. Rileggiamo il passaggio della Lumen Gentium dicendo La Beata Vergine predestinata fin dall'eternità all'interno del disegno di incarnazione del Verbo per essere la Madre di Dio, per disposizione della Dina Providenza, fu su questa eterna l'Alma Madre del Divino Redentore, attenzione, generosamente associata alla sua opera ha un titolo assolutamente unico, questo è il primo punto base, associata alla sua opera ha un titolo assolutamente unico, cioè il modo con cui la Madonna ha collaborato con Gesù è solo suo e di nessun altro. Specifica più avanti sia concependo, generando, nutriendo e presentando il figlio al Tempio sia soffrendo col suo figlio morente in croce e la cooperò, attenzione, in modo tutto speciale all'opera del Salvatore quindi abbiamo titolo assolutamente unico e in modo tutto speciale all'opera del Salvatore che significa? significa una cosa molto semplice ecco perché la Madonna si può e si deve chiamare corredentrice in senso stretto non in senso lato come lo siamo noi in senso ampio allora, per comprendere quest'opera dobbiamo ecco, cioè qui nella Lumen Gentium c'è già il fondamento allora, il problema è questo qui la coppia, abbiamo anche tutti quanti, diciamo così le attrezzature teologiche anche dal precedente ciclo di Catechesi che abbiamo già fatto il problema è questo noi abbiamo già visto che la redenzione è stata scelta da Dio in questo modo potevano esserci mille modi possibili per farlo ma ha scelto questo modo e abbiamo già detto che le scelte che fa Nostro Signore non sono come le nostre che sono fatte a volte un po' così a Roma dicono a Capocchia ma una scelta che fa Nostro Signore è la migliore cioè quella assolutamente più conveniente, più consona che si debba fare in certe situazioni concrete per i problemi che si vogliono affrontare e risolvere e quindi abbiamo spiegato, adesso non rifacciamo tutto questo discorso il peccato, la schiavitù, il demonio, il riscatto eccetera eccetera ora, c'è un problema però e abbiamo visto come questo fosse il rovesciamento di Adamo che era il capo stipide della razza umana sarebbe stato un peccato gravissimo di Eva che con Eva nasceva e con Eva moriva finito ha coinvolto però anche Adamo perché Adamo gli è andato dietro quindi il peccato originale in realtà ha principiato da Eva che è stata la prima ad essere seduta dal serpente ed è terminato con il coinvolgimento di Adamo il coinvolgimento di Adamo ha causato la fine del genere umano quindi bastava soltanto Gesù Cristo a compiere l'opera della redenzione? sì non solo che bastava ma ampiamente avanzava questo sia chiaro quindi la collaborazione voluta come vedremo da Dio della Madonna all'opera della redenzione non dipende da necessità né da presunta insufficienza dell'opera della redenzione operata da nostro Signore Gesù Cristo perché come Dio non era vincolato dal redimere il mondo nel modo con cui l'ha redento perché Dio fa quello che vuole ovviamente nell'ambito del bene ma fa quello che vuole e ha scelto di redimere il mondo in questo modo perché era la modalità migliore così vale per quanto riguarda la corredenzione però quindi come poteva redimere il mondo in tutti i modi possibili così bastava e avanzava nostro Signore Gesù Cristo per redimere l'umanità questo sia chiaro questo qui ecco primo step Dio sceglie di redimere il mondo attraverso la passione e la morte di suo figlio Gesù Cristo abbiamo già visto che a questo punto se per assurdo nostro Signore Gesù Cristo si fosse rifiutato una volta che stava sulla terra periodo ipotetico da dire realtà perché questo non era possibile ma dobbiamo considerare la redenzione non si sarebbe compiuta perché una volta che la scelta da Dio è stata fatta che il decreto è stato formulato questo diventa vincolante allora a questo punto rimane teoricamente vero che la redenzione poteva essere fatta in tutti i modi possibili ma su quella è caduta la scelta dell'Altissimo per cui se Gesù Cristo non fa tutto quello che il Padre gli ha ordinato di fare come diceva nel Vangelo la redenzione non si compie d'accordo? secondo step che c'entra la Madonna con la redenzione? la Madonna che c'entra il peccato originale è stato fatto su istigazione del serpente che ha sedotto la donna che ha sedotto l'uomo è chiaro che la responsabilità principale del peccato originale ricade su Adamo perché è per lui che è rientrata la rovina del genere umano quindi il Redentore deve essere un nuovo Adamo maschio e chi è? Gesù Cristo abbiamo visto tra l'altro innocente e divino domanda ma non era conveniente dato che sono stati in due a fare il disastro anche se la responsabilità principale cade su Adamo che ci fosse anche una nuova Eva a collaborare con l'opera della redenzione del nuovo Adamo per il bene di tutti Dio ha deciso che era conveniente c'è il principio della doppia predestinazione c'è la coppia approfondita da tutti i padri della Chiesa in continuazione nuovo Adamo e nuova Eva allora la corredenzione mariana afferma che per un decreto dell'altissimo quindi non per necessità Dio ha voluto che nell'opera della redenzione così come nell'opera della peccato originale c'era stata una cooperazione tra il maschio e la femmina tra l'uomo e la donna ci fosse similmente una cooperazione nella redenzione quindi fermo restando che l'opera principale l'ha compiuta Gesù Cristo che era indispensabile che uno fosse Dio e Gesù Cristo è Dio altrimenti manco se fosse stato un uomo innocente non avremmo dovuto fare niente questo l'abbiamo già spiegato basta risentire la prima puntata della corredenzione che si chiama la trappola della redenzione che è tutto spiegato questa dinamica però deve redimere anche la donna perché la donna ha rovinato il genere umano attraverso adesso non facciamo le soli discorsi dei femministi capiamo il discorso teologico il serpente è andato la donna ha udito un annuncio da parte di un angelo cattivo gli ha detto Fiat gli ha detto si ci credo ha secondato e poi ha avvenenato pure pure allora prendiamo un'altra donna gli mandiamo un altro angelo gli diamo un altro annuncio l'annuncio della redenzione l'annuncio della salvezza l'annuncio della salvezza che lei comprende subito l'avrebbe coinvolta e adesso vediamo subito in che modo perché il coinvolgimento nella redenzione da parte di Maria è strutturare nella sua opera stessa cioè se uno ci pensa bene è che ciò non granché cioè quando la madonna sente dire guarda che nasce da te il salvatore sarà chiamato Gesù la madonna era molto ferrata nella conoscenza delle sagre scritture per cui ha capito subito cioè questo è il redentore e se lei il profeta Isai lo conosceva bene il primo il secondo il terzo il quarto canto del servo di Yahweh o quel passo dice chi è costruito e viene da Edom che avanza tinto di rosso coperto del suo sangue quindi lei ha capito subito che dicendo Piat avrebbe dovuto vedere quel figlio suo figlio e quel figlio soffrire e morire in quel modo ora andate a domandare ad una mamma qualunque mamma degna di questo nome se vedere soffrire un figlio anche se io non ho sentito niente non è la sofferenza più brutta che potrebbe capitare nella vita vedere soffrire e morire un figlio io lo so perché io l'ho visto con gli occhi miei cioè io ho avuto il mio migliore amico che è morto dopo un anno di via Crucis io sono stato vicino alla mamma e alla famiglia gli ultimi mesi ho visto quanto cioè ho visto quanto tempo ci ha messo la mamma per riprendersi sono passati quasi sono passati 25 anni da 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 questi eventi la mamma ci ha messo anni per riprendersi un po' ma una mamma che perde un figlio c'ha una come dire c'ha una punta e ruolo nel chiodo nel cuore perpetuo insomma perché è una lacerazione atroce d'accordo quindi già la madonna dicendo quel fiat già aveva detto accetto di soffrire in questo modo quindi e questo sarebbe stata una sofferenza del tutto personale di maria santissima se però dio non avesse scelta come collaboratrice di gesù allora tutte le sofferenze che lei avrebbe vissuto come dice il concilio concependo generando nutriendo presentando al tempio e soffrendo col suo figlio morente in croce avrebbero come dire completato diciamo così in senso molto tra virgolette l'opera della redenzione nel senso che sarebbero state unite alle sofferenze del figlio e congiuntamente presentate al padre per riaprire i cieli capite quindi l'unica messa voi sapete che di messa ce ne sono tanti ma di messa sostanzialmente ce n'è una che è quella che c'è sul monte calvario al calice del sangue di cristo sono state unite le lacrime della madonna attenzione ad validitatem però ad validitatem non è un accessorio perché perché se il padre ha deciso e ha deciso così non solo il padre la tantissima trinità che era conveniente affiancare all'opera del redentore nelle vestiti di nuovo Adamo un'opera ripeto dipendente subordinata e strettamente non necessaria ma conveniente di una nuova Eva con il titolo di corredentrice sapete che succede succede che se Dio non voglia la madonna non avesse fatto tutto quello che Dio voleva e questo purtroppo è così le cose non sarebbero andate la redenzione non avrebbe funzionato e quindi noi alla madonna subordinatamente certamente rispetto a Cristo ma dobbiamo dirle grazie e dobbiamo sapere che io oggi sono battezzato sono figlio di Dio sono prete mi posso confessare sto nella chiesa vivo nella chiesa anche per il sì della madonna che è stato formulato al momento dell'annunciazione ma poi è stato ratificato in maniera terrificante sotto la croce noi abbiamo un passo del libro dell'apocalisse che va rettamente interpretato che è la famosa donna vestita di sole la famosa donna vestita di sole viene descritta con la luna sotto i suoi piedi sul capo una corona di due cistille era incinta e gridava per le doglie e i travagli del parto le doglie e i travagli del parto eresia anche qua vedete quando uno vedete la sacra scrittura a volte apparentemente inganna se tu non hai le chiavi di lettura abbiamo già visto prima San Paolo dice completo nella mia carne quello che manca le sofferenze di Cristo manca le sofferenze di Cristo ma che dici uno potrebbe dire e anche qui la donna è incinta allora sono due le cose o non ha fatto un parto virginale allora la madonna non è vero che è vergine sempre prima durante e dopo il parto giusto oppure questa è un'eresia oppure c'è la chiave di lettura corretta la madonna e il parto della madonna l'abbiamo già visto è stato un parto divino è stato un parto completamente virginale è stato un parto che è stato un'estasi d'amore la madonna non ha sofferto al mettere al mondo Gesù ma la madonna è madre di Dio sì ma attenzione in quanto destinata ad essere la corredentrice contestualmente all'accettazione del compito di madre naturale di Dio perché tale è ha accettato il compito di diventare madre spirituale e vedremo in che senso nell'ordine della grazia di tutti noi Maria madre della chiesa la festa che quest'anno Papa Francesca ha reso obbligatoria e in che senso madre spirituale di tutti noi perché ci genera alla grazia capite non ci fa nascere a me io sono figlio di mia madre quanto alla mia natura umana ma la grazia che io ricevo che mi fa figlio di Dio quindi che è una seconda nascita che è la nascita spirituale anche quella c'è un papà e una mamma diciamo così chi è il papà Gesù Cristo chi è la mamma Maria chiaramente l'opera di Maria è poi svolta sacramentalmente nel corso della storia dalla chiesa allora a cosa si riferiscono quelle doglie e quei travagli del parto non alla maternità naturale di Gesù ma alla maternità spirituale di me e di tutti perché la Madonna è accettato il compito di diventare madre spirituale di tutti al momento dell'annunciazione ma quando è giunta al culmine l'opera della redenzione durante la passione e la morte di Gesù e la Madonna dove stava stava sotto la croce versando tutte le sue lacrime quindi chi è che ci ha redento qual è il prezzo del nostro riscatto abbiamo visto il sangue di Gesù Cristo si è cos'altro e tutte le lacrime che si è pianta la Madonna cioè il prete quando celebra la messa dice l'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana d'accordo questa cosa non è proprio ad vali è l'espressione rituale del fatto che al sacrificio di Cristo nella messa è sempre unito il sacrificio della chiesa ovviamente questo è un gesto rituale non ad validitatem cioè nel senso che se il sacerdote si dovesse scordare di fare questa cosa non è che la messa non è valida d'accordo perché comunque questo è un gesto esplicativo un gesto simbolico e invece se non c'erano tutte ecco perché la Madonna doveva essere presente sul Calvario non era una presenta accidentale doveva starci e ha voluto starci e ha accettato volontariamente di starci ecco quindi capite questa sua presenza che è unica perché soltanto la Madonna ha fatto questo capite allora la associa al sacerdozio di Cristo quindi la Madonna certamente condivide il nostro sacerdozio si chiama comune di cristiani io vorrei introdurlo adesso questo tema se non riesco a finirlo la fine della catesi lo riprendiamo nel prossimo la Madonna non è sacerdote come me non partecipa del sacerdozio di Cristo in senso stretto come il sacerdote ministeriale cioè non ha il potere di agire in persona Cristi la Madonna questo non ce l'ha e non ce l'ha nemmeno in quanto corredentrice perché la sua opera di corredenzione non implica l'esercizio del sacerdozio ministeriale la Madonna non ha celebrato nessuna messa non ha amministrato nessun sacramento quindi attenzione alcuni autori dicono bene c'è il sacerdozio di Cristo in senso stretto che è partecipato a due titoli differenti dai battezzati e dai sacerdoti sapete la chiesa insegna il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale il sacerdozio dei battezzati è quello che ci fa per esempio a noi corredentori nel senso che abbiamo visto all'inizio di questa catechesi cioè io con la mia preghiera e con il mio sacrificio posso ottenere che sia arrivi a me una maggiore quantità di grazia o la ottenga per un'altra persona eserci del mio sacerdozio anche come ricevendo i sacramenti pregando per me e per tutti il sacerdozio ministeriale a differenza di questo che è quello comune ha qualcosa di più cioè perché abilita la persona ad agire in persona a Cristi e quindi a distribuire direttamente ed efficacemente la grazia che Gesù ci ha procurato come attraverso l'esercizio dell'amministrazione dei sacramenti un sacerdote celebra la messa la messa non è io posso chiamare Gesù Cristo sull'altare io cioè nel momento in cui celebro la messa Gesù sacerdote attraverso di me offre il suo sacrificio al padre attenzione questa è tanta roba questa qui capite quando dico quando io li metto i peccati a una persona non dico Gesù ti assolve dico io ti assolvo i tuoi peccati nel nome del padre del figlio e del spirito santo perché posso agire non solo in suo nome ma in sua persona si dice in senso stretto e questo è il sacerdozio ministeriale e la Madonna la Madonna in quanto corredentrice non ha soltanto usato il nostro sacerdozio perché io il mio sacerdozio non di sacerdote ma di battezzato mica serve a fargli avere la grazia di Dio a tutti a riacquistare la grazia come quello della Madonna nemmeno serve a procurarla efficacemente come quando agisco in quanto sacerdoti quindi capite che questa è una cosa del tutto come dice il concilio a titolo assolutamente unico e la cooperò in modo tutto particolare allora qualche autore e io sono d'accordo su questo qui attenzione qui si parla allo stato attuale di ipotesi teologiche come quando racconto della possibile ricostruzione di cosa è stato il peccato originale chiaramente secondo il pensiero non è che sono io fino a ora non ho mai messo in giro cose mie originali si tratta sempre di idee che sono già state formulate da qualche autore teologico per quanto riguarda il peccato originale ci sono già ampie testimonianze nell'età patristica anche autorevolissime quale quella di San Giovanni Grisostomo o di un San Leone se non ricordo male adesso non riesco a fare momentaneamente mente locale comunque riguarda questo tema qualche autore parla di un terzo tipo di sacerdozio esclusivo della Madonna ce la solo lei quindi non apre nessun tipo di questione e questo sarebbe del tutto normale perché la Madonna è la donna delle esclusive piaccia o non piaccia l'immacolata concezione ce la solo lei la verginità perpetua ce la solo lei la maternità divina ce la solo lei d'accordo e la non corruzione del corpo perché morta o non morta l'abbiamo visto capite l'assunzione non è detto che ce l'abbia solo lei perché ci sono delle correnti spirituali ne ho parlato quando feci dei cicli di catechese su San Giuseppe su San Giuseppe dobbiamo saperlo questo qui ci sono dei cicli delle correnti spirituali che vantano anche un certo San Giovanni XXIII diciamo così tra tra i favorevoli che per esempio affermano che San Giuseppe sarebbe stato risuscitato da Gesù e assunto in cielo quindi capite dice ma togli l'esclusiva alla Madonna no non togli l'esclusiva alla Madonna perché il corpo di San Giuseppe si è corrotto capite cioè la quidditas dell'assunzione non è solo il fatto che la Madonna sta già in cielo in corpo ed anima ci andremo tutti in cielo in corpo ed anima alla fine del mondo ma che lei ci è passata senza che la sua anima si staccasse mai completamente dal suo corpo e senza che il suo corpo si corrompesse quindi non passando attraverso la morte intesa come distruzione per la sua immacolatezza questa è un'esclusiva di Maria Santissima l'essere corredentrice in questo modo ripeto la Chiesa nella Lumen Gentium come dire ne ha affermato la sostanzialità di questo fenomeno chiaramente non è scesa né in una definizione dogmatica né in una come dire in una specificazione particolareggiata delle modalità come sto cercando di fare io dentro l'ambito libero del pensiero teologico ok allora qualcuno chiama questo sacerdozio il sacerdozio mistico è un nome tanto per 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 darglielo no cioè per distinguere dal sacerdozio ministeriale e dal sacerdozio comune quindi c'è un sacerdozio che non rende la Madonna una sacerdotessa e quindi non si riapre il discorso dei sacerdoti per le donne perché non c'entra niente col sacerdozio ministeriale ok con l'agire in in persona di Cristo capo e pastore e sacerdote non c'entra niente ma è dipendente da quella sua unica associazione all'opera della redenzione richiesta per convenienza non per necessità dalla volontà dell'Altissimo e a cui lei si è perfettamente prestata e per la quale merita il nostro grazie perché seppur in modo del tutto subordinato dipendente da quello di Cristo ha cooperato veramente alla nostra redenzione alcuni autori propongono di chiamare questo sacerdozio sacerdozio mistico perché sicuramente la Madonna condivide il nostro sacerdozio comune d'accordo sicuro perché come dice il concilio lei è membro della chiesa membro sovreminente ma sta anche dalla nostra parte in lei c'è questa figura del tutto singolare per cui noi diciamo in continuazione nell'Ave Maria prega per noi peccatori ma io posso chiedere anche a voi pregate per me il Papa ogni volta che finisce un discorso fa per favore pregate per me non lo chiede soltanto alla Madonna ma lo chiede certamente principalmente come ogni cristiano alla Madonna perché la Madonna adesso prega per me quindi svolge questa sua funzione di intercessione dipendente dal fatto che è la prima e la più perfetta discepola di Cristo cioè nessuno di noi dubita che la prima cristiana chi è la prima cristiana è la Madonna più grande titolo che gli si possa dare per certi aspetti no ecco però anche vi ricordate quando dicevo è inutile che litigano ecclesiologia cristotipica ecclesiotipica sono tutte e due perché la Madonna c'è tutte e due queste funzioni attenzione non so se se ricordate forse l'abbiamo accennato nel precedente ciclo dico l'ultima cosa che è inerente no per fare anche un pochino capire la bellezza del Signore di Dio no voi sapete che la Madonna fa parte della Chiesa ma sapete questo è San Bernardo il primo che la formalizza dice che membro della Chiesa è la Madonna San Bernardo dice la Madonna è il collo della Chiesa perché perché la Madonna non è né solo tutta membro della Chiesa e né solo tutta dalla parte del capo il collo nel nostro corpo non è né la testa né il corpo ma è capite nel collo tutti i centri che partono dal cervello e che vanno in giro dappertutto da dove passano dal corpo tanto è vero che una persona se la vuoi ammazzare gli tagli la testa è morta subito quindi stacchi l'anello di congiunzione ecco questo fa anche in parte comprendere è chiaro che il collo non ha la dignità e l'importanza della testa no cioè non è che io penso col collo d'accordo non è che io muovo le mani con il collo però nel collo partono i centri nervosi passano i centri nervosi che partono dal cervello e che mi fanno muovere le mani e che mi fanno adesso parlare e fare tutte quante le altre cose no se non ci fosse il collo sarebbe un problema quindi il collo è come dire è una parte fondamentale del nostro organismo quindi che è molto più vicino al capo è quello direttamente congiunto col capo ma anche direttamente congiunto col corpo ecco quindi la madonna in parte partecipa all'opera della redenzione esclusiva di Cristo quindi la redenzione in senso stretto l'acquisto della grazia d'accordo in parte in parte però partecipa alla nostra opera pedentiva che dipende dal sacerdozio comune battesimale e che consiste nell'intercedere nell'offrire sacrifici per noi perché le grazie possano già acquistate da Gesù e da Maria stesse in quest'altra veste possano raggiungere gli uomini di ogni luogo e di ogni tempo nel corso della storia ecco il discorso sulla sulla corretensione in senso diciamo così ci sarebbe chiaramente altro da 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 voler in teoria approfondire però penso insomma che essendo questo un ciclo di catechesi importante certamente informativo ma comunque divulgativo insomma non è una lezione accademica penso che focalizzando queste cose possa abbastanza bastare sono contento insomma che sono riuscito a a essere abbastanza sintetico e a poter così concludere diciamo con questa puntata questo primo aspetto della della tematica che stiamo affrontando sintetizziamo la Madonna è corredentrice in senso stretto per volontà di Dio come nuova Eva la cui opera è stata associata a quella del nuovo Adamo d'accordo una redenzione a cui ha cooperato con tutte quante le sofferenze che ha dovuto vivere come socia di Cristo culminate sotto la croce in cui ci ha partorito come figli delle sue lacrime alla grazia e in cui ha unito le sue lacrime al sangue di Cristo come prezzo del nostro riscatto e grazie anche alla sua opera dipendente subordinata ma necessaria per volontà di Dio attenzione solo per volontà di Dio è giunta è stata aperta la porta del cielo riacquistata la grazia per gli uomo oltre a questo una madonna insieme con noi e dalla parte diciamo così nostra continua a cooperare con il Signore come anche noi e con la preghiera e noi anche con i sacrifici perché possiamo soffrire un pochino stanno ancora su questa terra perché la grazia già acquistata possa raggiungere gli uomini di ogni luogo e di ogni tempo perché si possano convertire e accogliere quello che il Signore vuole donargli ossia la salvezza bene appuntamento alla prossima settimana la mia benedizione a tutti Ave Maria Grazie a tutti